Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla bottega didattica per il fai da te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza. In questo video volevo proporvi Canva, non tanto l'applicazione molto famosa ed eccellente per costruire infografiche, oggetti grafici, banner, poster e così via, quanto alcuni strumenti di utilità meno conosciuti che Canva offre per curare dal punto di vista grafico i nostri progetti. A che cosa mi riferisco in particolare? Noi viviamo immersi in un mondo multimediale, multicanale, quindi sappiamo bene quanto sia importante curare graficamente i vari aspetti di un progetto, di un qualsivoglia progetto, da una presentazione a un'infografica, a un documento multimediale e così via. Però, appunto, far questo significa avere tante conoscenze, spesso anche specialistiche, pensiamo, non so, a quanto sia importante l'immagine, quindi il fotoritocco, oppure a quanto sia importante il colore, la palette, la tavolozza di colori di un progetto che non possono essere accostati a casaccio, così come a casaccio non possiamo scegliere un font e soprattutto accopiare i font tra di loro. Ebbene, Canva offre strumenti che possono sopperire a questo, cioè non possiamo essere oltre che docenti, anche specialisti in grafica, in tipografia e così via. Però possiamo raggiungere quelle conoscenze di base su questi argomenti e soprattutto utilizzare questi strumenti che facilitano le operazioni, di cui andrò a parlarvi, per coloro che non sono specialisti di questo campo. Quindi strumenti, dicevo, per curare progetti grafici. Vedremo, per esempio, come sia delicata la combinazione dei font, il cosiddetto font pairing, il fotoritocco, tutti sappiamo cos'è, ma appunto non è semplice, non tutti possiamo utilizzare Adobe o altri programmi dedicati molto complessi da apprendere. Così come è importante creare una tavolozza di colori. Bene, Canva ci offre, dicevo, alcune utilità. Cominciamo con Photo Editor, un elementare editor online che, vedete, permette di applicare alle nostre immagini alcune operazioni di base, senza dover aprire Adobe, ritrovarci nella complessità degli strumenti meravigliosi che offre. Come funziona? Semplicemente caricando un'immagine, adesso io per esempio caricherò, cerco una foto, carico un'immagine e come vedete mi propone l'applicazione di filtri, prima di tutto. Basta che io clicchi un pulsante, poi posso andare sulla regolazione, vedete, della luminosità, del contrasto, della saturazione dei colori e così via. Adesso torniamo all'immagine originale. Il ritaglio, vedete, questo è l'originale, abbiamo anche la griglia che mi permette di ridimensionare a occhio, oppure posso, vedete, utilizzare queste dimensioni preimpostate, 4 terzi, 16 noni, eccetera, eccetera. E infine, il ridimensionamento appunto a mano, la rotazione dell'immagine e il capovolgimento in verticale o in orizzontale. Terminate queste semplici regolazioni, che ripeto, sono qui molto semplici, si fanno rapidamente. Io scarico il risultato e lo salvo. Download io la foto, e la foto viene scaricata. Bene, chiudiamo e passiamo rapidamente a Canva Color Palette. Quindi, come realizzare la tavolosa di colori per il mio progetto. Clicchiamo, e vediamo che anche qui tutto funziona con delle immagini. Per esempio, questa immagine presenta questa palette di colori. Io posso copiare, ingrandisco un po' il codice esademicimale che vedete qui, e una volta copiato lo posso utilizzare nel programma con cui sto creando un qualche contenuto da pubblicare sul web. Anche qui molto semplice, posso trascinare l'immagine o caricarla. Carichiamo adesso un'altra immagine, questo gattino. È un disegno, non è una fotografia, ma comunque posso ricavare, vedete, una palette di colori. Ho scelto l'esempio sbagliato. Ah no, ecco, una palette di colori abbastanza particolare. Copiare il codice esadicimale e utilizzarlo nel mio progetto. Poi, chiaramente, mi si propone di provare Canva, il proprio editor grafico. E anche questo, come vedete, è molto semplice e mi permette di avere una palette di colori coerente ed efficace con una certa immagine. Molto delicata è la combinazione dei font. Già la scelta di un font è estremamente complessa. Ci sono regole tipografiche molto precise, mentre noi in genere scegliamo a casaccio dal menu a discesa del programma che stiamo utilizzando il font da impiegare. Qui abbiamo, vedete, un menu a discesa. Possiamo scegliere uno di questi font, per esempio Garamon Premiere Pro, e ci viene proposta l'associazione di Garamon, che vediamo qui, con Oswald, quest'altro carattere. Qui l'associazione dei caratteri, scusa, la combinazione. Ci viene mostrato anche un esempio con la grafica proposta da Canva. Qui la combinazione è tra un carattere senza grazie e un carattere per il titolo, un carattere per il corpo del testo con le grazie. E possiamo fidarci e utilizzarli. Naturalmente operare questa scelta da soli richiede conoscenze che sono piuttosto complesse. Bisogna conoscere elementi di tipografia, le famiglie dei font e così via. E questo invece ci facilita tutto. Bene, torniamo alla nostra presentazione. Vediamo anche, è interessante, un blog dedicato da Canva a coloro che vogliono perfezionare le loro conoscenze sul design. Almeno su quelle che sono le basi del design. Clicchiamo e vediamo che abbiamo tutta una serie di articoli che trattano di come costruire un logo, che trattano di come creare una guida al proprio canale YouTube, eccetera, eccetera. Volevo mostrarvi un articolo, sempre tratto dal blog di Canva, dedicato alla tipografia. Ecco, guardate, questa per esempio è l'anatomia, in questo disegno la vediamo, di quelli che sono gli elementi che vanno a costituire un font. Guardate quanto è complessa la scienza tipografica. Abbiamo una terminologia veramente complessa, tutte le parti di una lettera ascendente, terminale, non le so neanche tradurre tutte in italiano, bastoni, linee. Quindi, chiaramente, nessuno di noi può, se non ha almeno come hobby o passione particolare della tipografia, andare a diventare un esperto nella tipografia, nella scelta dei font. Però, appunto, abbiamo la possibilità di facilitare il nostro lavoro utilizzando questi strumenti. Naturalmente, gli articoli, come avrete visto, sono in inglese, possiamo riconoscere i caratteri con la traduzione automatica del nostro browser, in questo caso di Chrome, 8D che puoi prendere in prestito da loghi famosi. Qui abbiamo una traduzione che è accettabile. Vi siete mai chiesti come i marchi creano loghi iconici che sono immediatamente riconoscibili in tutto il mondo? Come vedete, ormai, queste traduzioni automatiche sono efficaci, almeno al punto, da farci capire con sufficiente chiarezza il testo della lingua originale. Bene, concludo mostrandovi un esempio di tutti i contenuti, gli oggetti grafici che possiamo realizzare con Canva. Vedete banner, copertine di libri, comics, quindi fumetti, certificazioni, documenti, presentazioni, infografiche e così via. Se voi andate alla piede di pagina, diciamo, cioè alla parte bassa della pagina web, in resource, risorse, potete trovare alcune delle utility, dei programmi, degli strumenti che vi ho mostrato. Il photo editor, la palette per generare i colori, la combinazione di font e anche altre colors, design sets, guide, altre guide. Ricordo che Canva è disponibile anche in italiano, in questo caso in inglese, e quindi potete provare anche questi strumenti di cui io non ho parlato in questo breve video. Bene, spero che questo video possa esservi utile, sono riuscito ad arrivare quasi a 10 minuti, e nel salutarvi conto di arrivarci. Buona giornata a tutti!